Ciao amici, oggi vorrei parlarvi dei quadrati magici, cioè di quei quadrati dove inserendo dei numeri si ottiene che la somma è sempre costante sia nelle righe, sia nelle diagonali e anche lungo le righe e le colonne. I quadrati magici il minimo è di ordine 3, l'ordine sarebbe il numero dei quadretti lungo i lati, per esempio questa è di ordine 3 e ci dà 9 quadratini complessivamente. È chiaro che tutti i quadrati di ordine dispari, in questo caso 3 è dispari, 5 è dispari, per avere la somma totale si utilizza questa formula dove n è l'ordine, nel nostro caso prima era il 3, quindi per ottenere la somma totale dobbiamo fare n alla terza più n è il tutto diviso 2, quindi per esempio per n uguale 3, quindi 3 quadretti, devo fare 3 alla terza che fa 27 più 3 fa 30 diviso 2 verrebbe 15, quindi questo 15 è la somma che io devo ottenere inserendo dei numeri. Ora i numeri che bisogna inserire sono i numeri che vanno da 1 a 9, da 1 a 9 ovviamente non ripetendo nessuno dei numeri. Come si deve fare? Ovviamente ognuno di voi può tentare di farlo, è chiaro che questo è abbastanza semplice, dopo vediamo come dobbiamo farlo. Poi ci sono altri quadrati di ordine pari, quelli di ordine pari ovviamente seguono una regola diversa da quelli di ordine disperi, poi la vedremo in un'altra occasione, però i quadrati di ordine pari sono in modo tale che alcuni sono più magici degli altri. Faccio un esempio, qui abbiamo un quadrato molto famoso che stava anche in un quadro del pittore Dürer, questo quadrato, cioè la somma è 34 sempre, quindi potete verificare 16 e 3 fa 19, 2 fa 21 e 13 fa 34, 10 e 15, 11 fa 26, 8 34 eccetera eccetera, quindi anche nelle diagonali. Questo ottiene pure che il 34 si ottiene pure addizionando negli angoli, quindi 13 e 1 fa 14, 4 dice 8 e 16 34 per esempio. Anche nei quadrati, nei quadretti a 2 per 2, 9 e 6, 15 e 15 30 e 4 34, 12 e 1, 13 e 7 fa 20 e 14 34. Però vedete questo quadretto qua, non ottengo 34, 6 e 7 fa 13, 27 e andiamo oltre il 34. Vediamo invece quest'altro, sempre di ordine pari, quindi 4 per 4, la somma fa 30. Vediamo che succede inquadrando il quadretto che precedentemente non mi dava il 34, qui la somma è 30 però, non è più 34. Però vedete che cosa succede, che 8 e 2 fa 10 e 5 fa 15 e 15 fa 30, 14 e 13 a 7 e 4 21 e 9 fa 30. Andiamo negli angoli, 13 e 6 fa 19 e 11 fa 30 più 0 fa 30. Oppure 2 di qua e 2 di là, 10 fa 17, 12 fa 29 e 1 fa 30. Anche nelle diagonali, potete verificare nelle diagonali, nelle righe e nelle colonne, fa sempre 30. Questo è più magico ovviamente di quello di prima. Questo pure fa 30, la somma, però non è magico come questo qua. Perché vediamo questo quadretto, mentre qui questi 4 quadratini, anche quelli di sopra ci davano 30, come pure quelli centrali, qui 30 lo otteniamo pure, 10 e 9 fa 19 e 6 fa 25 e 5 in questo quadretto centrale. Però manca il 30 in questo quadretto qui, 6 e 5 fa 11 14 e 14 fa 25 e otteniamo 38, quindi non è più 30 in questo quadretto. Quindi questo quadrato è più magico di questo. Ora io vi chiedo solo di riuscire a fare questo 3 per 3, però possiamo anche fare uno 5 per 5 dove la somma nelle righe, nelle colonne e nelle tecnologie deve essere sempre 65. Da dove viene 65? Da 5 alla terza che fa 125, più 5 fa 130, diviso 2 fa 65. Quindi dovremmo mettere i numeri da 1 a 25 all'interno di queste caselle in modo che la somma faccia sempre 65. Qualcuno dice una parola e invece c'è un trucco. Fra poco ve lo dico. Eccolo qua il trucco. Vediamo quello là 3 per 3. Allora io posso costruire su questo quadrato faccio questo disegno qua. Per farlo subito ovviamente. Cosa faccio? Comincio a mettere i numeri in ordine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Poi cosa faccio? 1 che sta in alto l'ho sposto in basso, 9 che sta in basso l'ho sposto in alto, il 7 che sta a sinistra va a destra, il 3 che sta a destra va a sinistra. E ottengo questo quadrato magico. Eccolo qua. quello la cui somma fa sempre 15. Infatti 4, 9 fa 13, 2 fa 15, 3, 5, 8 e 7, 15, 8, 1, 9 6, 15, 2, 7, 9, 6, 15, 9, 1, 10 e 5, 15, 4, 3, 7, 8, 15, in diagonale 6, 4, 10, 5, 15, 2, 8, 10 e 5, 15. Quindi questo qui è un quadrato magico ovviamente il minimo che possiamo ottenere in un quadrato 3 per 3 dispari dove la somma è 15, quello che vi avevo fatto vedere all'inizio. Invece il quadrato 5 per 5, dove la somma deve essere 65, qui dobbiamo inserire i numeri da 1 a 25. Se voi avete capito questo trucco probabilmente potreste fare da solo questo, da soli, se ci riuscite. altrimenti ci vedremo la prossima volta nel mio video. Ciao dal professore Olinto.